SEMPLICEMENTE Semplicemente, per anni, è stato il più forte di tutti. All'Inter più di 100 gol e la corona in testa. Talmente forte lui da illudere tutti che lui era sufficiente. E così ha finito per vincere meno di quanto avrebbe dovuto. Ma tra quelli che hanno provato a vincere da soli, Cristian Vieri è quello che ci ha andato più vicino. L'attaccante che tutti vorrebbero. Palla dentro, Vieri. C'è la sponda per ventola. Il destro, la respinta, Vieri! Sul tocco corto di Abbiati, non perdona. 1-0 Inter. Battuto improvvisamente il calcio di punizione, Vieri in aria fa la supetta e poi si gira improvvisamente. La difesa del Parma è imbambolata. Resta ferma. Il guizzo di Bobo Vieri all'altezza dell'area piccola si è girato improvvisamente e ha realizzato un gran bel gol per l'Inter. Battuto il calcio di punizione, Vieri si avvida di testa e manda la palla all'incrocio dei pali. un super gol di Bobo Vieri. 3 contro 3, parte Sanetti. C'è la sua posizione viva. Se la pallone per Vieri, ventola gli porta un avversario, Vieri. Conclusione, rete, Cristapieri. 2-0 al 39esimo, gol bellissimo. Arriba il cross dentro, Vieri di testa, Bobo Vieri. Algema profondità, Vieri può controllare, sceglie di calciare al volo, Bobo Vieri. Verona che arretra con il proprio baricentro. Bobo Vieri ferma con il petto, palla sul sinistro. Piatto sinistro vincente di Bobo Vieri. Molto bravo nel destreggiarsi, nel liberarsi dell'avversario. Palla sul petto, poi sul sinistro e gol di Bobo Vieri. L'Inter di Cooper espugna il granillo. Ad indirizzare il match è sempre lui, Cristian Vieri. Subito la verticalizzazione, lo scatto di Vieri. Al volo, rete! Cristian Vieri, straordinario, 1-0. Maurizio, bellissimo, perché vedi col suo piede che non è il sinistro di destra, non ha calciato di forza, di potenza, ma l'ha piazzata. L'ha carezzata questa palla sul secondo palo. La Roma, campione d'Italia, si ferma a San Siro. Vale il raddoppio, la torsione plastica di Cristian Vieri. Seedorf, subito in verticale per Recova, c'è il buco della difesa della Roma. Può correre Recova in contrastato, mette balla sul piede buono. Il mancino, al cross, dentro Vieri. 2-0 per l'Inter, esulta Hector Cooper. L'Inter travolge a San Siro. un Parma irriconoscibile. A dare il via alla goleada, il controllo perfetto è la conclusione da incorniciare di Bobo Vieri. Ovviamente nessuna voglia di mollare, soprattutto adesso che ha ritrovato immediatamente il pareggio. Vieri si gira! Cristian Vieri! Che gol di Vieri! Grandissimo gol di Vieri, battuta la punizione in fretta, l'ha presa, si è girata, l'ha fatta girare all'incrocio. Grande gol, vero fuoriclasse. 2-1! Che gol di Vieri! 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 Che gol di Vieri!